Siamo in centro a Verona e stiamo ristrutturando un edificio esistente completamente con il legno. Guardate che meraviglia, abbiamo fatto tutte le strutture in legno, travi in legno e solaio in legno spessore 14 cm e scala in legno portante. Abbiamo ricavato qui sotto la zona notte, camera, bagno, camera, che è la situazione esistente di questo appartamento. E sopra faremo la zona giorno tutta completamente in legno, pilastro in legno, travi in legno, in modo da ricavare la cucina là in fondo e qui il soggiorno con la vista verso la corte interna. Qui avremo le tre Velux, una, due e tre, l'impianto fotovoltaico su questa falda, in modo da alimentare anche l'appartamento con l'energia elettrica in modo rinnovabile. E questo è quello che si può fare con il legno, questo è un lavoro di due giorni, qui sono di circa 80 metri quadri. In legno.